Taranto quest'anno è ben più pronto rispetto allo scorso anno, non si può più parlare di una scommessa? Ma Taranto è sempre pronto, io mi sono trovato sempre in situazione in cui Taranto quando viene chiamata fa sempre il suo dovere, quindi nessuno può dire niente su questa città, quello che possiamo dire è che dobbiamo fare molto di più noi per noi stessi, noi tarantini dobbiamo fare di più per questa città e lo dobbiamo fare ovviamente con l'aiuto della regione, del governo, andando d'accordo con tutti, il governo che ci sostiene nella sfida dei giochi nel Mediterraneo, soprattutto spero nel ricondizionamento industriale degli impianti pericolosi, sono delle cose che in breve tempo possono cambiare il sentimento di questa città, purtroppo come si dice oggi è ancora una giornata triste perché subito dopo devo andare a un funeral di una persona a me carissima, non ne voglio parlare oggi però le due cose non sono in dissonanza perché quel ragazzo a me ha sempre detto forza non mollare e io cercherò di non mollare.